Tutti i fan di Silver Shroud, ho ricevuto una missione urgente. Se siete dei veri fan, fermatevi presso l'antro della memoria e parlate con Kent Connolly. Silver Shroud ha bisogno di voi! Niente paura, seguimi. Bene, spero che anche tu sia impaziente quanto me. Questa è la parte del mio lavoro che preferisco, accogliere nuovi membri nel nostro movimento. Il primo passo è semplice, devi imparare a rinunciare all'attaccamento ai beni materiali per riuscire a ottenere la vera ricchezza, la salute e la felicità. Dammi tutto ciò che possiedi e potrò iniziarti al primo livello di pilastro della comunità. Stai scherzando? Vuoi che ti dia tutto quello che ho? Il primo passo è sempre il più difficile. È l'unico modo per lasciarti alle spalle la vecchia vita e iniziare il nuovo percorso verso un futuro di salute, ricchezza e felicità. Non credi che tutto questo valga un piccolo sacrificio temporaneo? Voglio pensarci ancora un po' prima di decidere. No, mi dispiace, ormai è troppo tardi. Devi darmi tutto quello che hai, adesso. Me ne vado. Vedi tu cosa vuoi fare. Ma sto sprecando il mio tempo. Ci sono idioti più facili da convincere. Vattene prima che cambi idea. La sciella tiene un po' prima dacere. Sai da un po' prima dà, che io mi avessano. Non è un po' prima ch'' La sciella una macchina. La sciella un po' prima di usare ilervero. La sciella un po' prima di usare il piatto. Ci sono un po' prima dà, la sciella un po' prima. Ma che... Perché è stata un po' prima dà, la sciella. Così è stata un po' prima di usare il nostro pericolato a ciò. Sì, non ci vieni. Hai visto qualcosa? Sì, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.